Ho detto wow, questa è bellissima, proprio una bella maglia. Quando poi l'ho messa è stato qualcosa di unico, di unico e bellissimo e spero che si ripeta l'occasione ovviamente. Essere i primi a indossare la nuova maglia dell'Italia è sicuramente un'emozione unica e indimenticabile. E ovviamente avremmo voluto farlo in una maniera migliore, magari con una vittoria sarebbe stato più bello. Però resta comunque un'emozione che porterò dentro per tutta la vita. A me personalmente piace molto il fatto che scenda altri colori qui sulla maglietta. Il colore è molto acceso, azzurro e la trovo una cosa molto bella. Credo che rappresenti i colori dell'Italia in maniera perfetta. Sono molto comodo e mi sono trovato molto bene.